Luca Landi, il segreto per essere uno chef di qualità? La risposta è a quanto semplice e scontata, è la passione. La passione e la costanza. È come tutti i mestieri dove si fa arte o siamo artigiani del gusto, dove tutti gli artigiani si riesce a avere risultati, a far bene il proprio lavoro, si lavora con passione, dedizione, costanza e ci si crede in quello che si fa.